Toro, per i nati dal 21 aprile al 20 maggio. Segno di terra. Carattere. Il toro è caratterizzato dallo spirito pratico. Tra la cicala e la formica, il toro e la formica. Risparmiatore. Hai il fiuto per gli affari. Sei ostinato, e quando ti metti in testa una cosa non ti fermi fino a quando non la raggiungi. Prudente. Non per tutto, sei il tipo di cui ci si può fidare. Offri e chiedi tranquillità. Al toro piace il benessere, sia fisico, con saune, massaggi e cura del proprio corpo, sia economico. Lavoratore, pensi alla casa e alla famiglia, ma anche ai beni materiali. Nel lavoro rifiuti i ruoli di grande responsabilità. Mentre quando sei innamorato dai tutto te stesso. La donna d'oro è fedele, ma gelosa da morire. Ottima madre d'entità alla famiglia. Nella vita hai un solo unico grande amore, per il quale faresti di tutto e di più. Tra i amici del toro, il 2012 è l'anno della forza, della potenza. È il momento di spingere al massimo, e se possibile mettere la freccia e superare, prendendovi anche qualche bella rivincita. I segni a voi affini sono sagittario e pesci, quello meno affine è l'acquario. I mesi fortunati sono maggio e novembre, quello un po' più sfigato è dicembre. Giorni propizi per le vostre attività, martedì e venerdì. Quello un po' più sfigato, il lunedì. I numeri vincenti sono cinque, quindici e venticinque. Quello meno fortunato, venti.